buongiorno a tutte ragazze e benvenuti in questo nuovo video motivazionale di pulizie della casa vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non siete spette e a lasciarmi un like se questa tipologia di video vi piace io vi lascio al video ciao ragazze grazie a tutti a 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